Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Le Paralimpiadi di Parigi 2024 hanno fatto la storia, aprendo le porte della competizione a un atleta transgender, la napoletana Valentina Petrillo. Dopo i successi ottenuti ai giochi olimpici, l'Italia si prepara ora a seguire le Paralimpiadi di Parigi 2024, con una novità di rilievo. La partecipazione di Valentina Petrillo, atleta transgender. La sportiva ipovedente, nata a Napoli nel 1973, gareggerà nelle discipline femminili di atletica leggera, in particolare nei 200 metri e nei 400 metri nella categoria T12. Una sfida nuova per Valentina, che in passato faceva parte della nazionale maschile di calcio a 5. Dopo aver realizzato la transizione di genere nel 2019, Petrillo ha affrontato polemiche e cambiato sia sport che categoria, dedicandosi all'atletica leggera femminile. Ha partecipato con successo ai campionati italiani, europei e mondiali, dimostrando il suo valore. Con Parigi 2024 come palcoscenico, Valentina Petrillo vuole diventare il simbolo di un mondo che si sta evolvendo e ribellando alle discriminazioni. La sua partecipazione alle Paralimpiadi rappresenta un passo avanti nella inclusione e nell'accettazione delle diversità nello sport. La presenza di Valentina Petrillo alle Paralimpiadi di Parigi 2024 è un segnale di apertura e cambiamento che potrebbe ispirare altri atleti transgender a seguire i propri sogni e a lottare per il riconoscimento e la valorizzazione delle prove.